Ok. Allora. Allora, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di Tutored. Allora, qui con me potete già vedere lo speaker di questa sera, Federico. Ciao a tutti. E prima di, diciamo, di lasciare totalmente la parola e il palco a Federico, ci tenevo, diciamo, a raccontare proprio due parole su Tutored, poiché probabilmente qualcuno di voi si è iscritto alla nostra piattaforma proprio per seguire questo webinar. Come molti di voi sapranno, probabilmente Tutored è il punto di incontro digitale tra studenti, giovani laureati e aziende. Il nostro obiettivo è quello di orientare al lavoro studenti e giovani neolaureati che ad oggi, diciamo, fanno parte della nostra community. E lo facciamo attraverso una serie di contenuti, come articoli, pubblicati direttamente dalle aziende che sono sulla nostra piattaforma, alcuni consigli, quindi sotto forma di proprio articoli sul CV, sui colloqui, sugli sbocchi lavorativi, da poter, appunto, intraprendere, conclusa la carriera accademica. E altre attività, come questo webinar, quindi dei webinar che organizziamo sempre con le aziende o con dei nostri partner o persone del nostro network, e anche delle coding challenge e dei business game rivolti proprio alla nostra community, e che danno quindi l'opportunità a studenti e neolaureati di mettere un po' in pratica tutte quelle skill che vengono, come dire, acquisite nel corso della formazione accademica. Oltre a questa parte di orientamento, diciamo, Tutored si propone proprio come una sorta di career center digitale, e infatti sulla nostra piattaforma trovate diversi, diciamo, opportunità di stage entry level che vengono pubblicati, diciamo, con una certa frequenza dalle nostre aziende clienti, sono circa 250. E per farlo, quindi per potervi candidare a tutte le opportunità, potete tranquillamente utilizzare un curriculum creato proprio all'interno della nostra piattaforma, quindi di Tutored, in modo molto, molto semplice, e un curriculum creato, diciamo, ad hoc per studenti e neolaureati, in modo tale da permettervi di mettere in mostra quelle skill, quelle competenze, quelle esperienze accademiche e professionali che avete maturato. Per restare un po' tutti aggiornati, diciamo, su tutte le attività che portiamo avanti e tutti i tips un po' sulla carriera, sui consigli, su colloqui, CV, tutti i temi di cui, diciamo, vi ho parlato poco fa, vi consiglio, appunto, di seguire la nostra pagina Instagram e perché non per quella di LinkedIn, dove noi, diciamo, pubblichiamo con una certa frequenza tutti questi contenuti utili, diciamo, per la nostra community. Infine, vi ricordo un po' tutti, diciamo, i prossimi appuntamenti della settimana. Domani ci sarà un altro webinar organizzato con Joseph Caputo, un altro ragazzo che lavora in Alten, con cui, diciamo, parleremo della sua esperienza tra startup e il mondo delle aziende, delle grandi aziende. Il 29 gennaio, invece, avremo un altro webinar più in tema colloqui, colloqui online, in digital recruiting. E ci sarà con noi, appunto, Paolo Cacciolati, il founder di HR Camelot, che darà un po' di suoi consigli dritte su come affrontare colloqui online. E invece, il 29 gennaio, avremo un webinar organizzato in collaborazione con SP Business School. Prima di passare definitivamente la parola a Federico per la sua, diciamo, per il suo intervento su, appunto, l'innovazione, il mondo in particolare con focus sul fintech. Volevo darvi due info generali sulla piattaforma che stiamo utilizzando stasera per questo webinar. Allora, sulla colonna di sinistra, quella arancione, la toolbar, trovate, diciamo, due tasti molto importanti, che sono una nuvoletta con quelle due righette dentro, è una, banalmente, è una chat che potete utilizzare per, diciamo, interagire con Federico e con me durante tutto il webinar. Però vi chiediamo di fare tutte le domande che vi vengono in mente nella parte sottostante, in quella nuvoletta col punto di domanda, che è proprio una sezione Q&A, che ci permette, appunto, di reperire le domande in modo molto più facile rispetto alla chat, che può essere magari un po' più confusionaria se ci sono tante interazioni durante il webinar. Infine, ultimissima informazione, in basso a destra trovate un'iconcina bianca su sfondo nero. Quell'iconcina vi permette, sostanzialmente, di scegliere la modalità di visualizzazione dello schermo. Io, per, diciamo, considerato che tra poco Federico proietterà una presentazione, vi consiglio di mantenere questa modalità full screen, che vi permette, appunto, di vedere una bella presentazione, diciamo, bella in grande e poter leggere bene le slide che vi verranno proiettate. E, niente, appunto, io vi ringrazio di essere qua e, comunque, passo la parola, appunto, a Federico per questo suo intervento. Ciao a tutti. Grazie, Simone. Adesso condivido la presentazione. Intanto, ringrazio anche tutti i ragazzi Tutored per questa opportunità. Per me anche è un piacere essere qui a raccontarvi di questi temi di innovazione, di fintech, che, oltre ad essere, diciamo, i temi e tematiche che affronto tutti i giorni al lavoro, sono anche, diciamo, una mia grande passione. Quindi sono temi che poi approfondisco anche ogni giorno, sia al lavoro, appunto, che per mia passione personale. Parto brevemente presentandomi. Chi sono? Mi chiamo Federico Tiella, nato e cresciuto a Milano, sono del 94, quindi ho 26 anni. A livello di educazione, quindi il mio percorso accademico, ho fatto il liceo scientifico. ho fatto sia la trennale che la specialistica in Bocconi, ho fatto il trennale del CLEAM, per chi conosce un po' le sigle della Bocconi, che è Economia e Management. Nel specialistico ho fatto marketing, con il major in Big Data e Business Analytics, dove appunto, diciamo, ho scelto di affrontare in modo un po' più specifico le tematiche relative, appunto, al mondo di Big Data, Business Analytics, quindi le tematiche un po' più tecnologiche e innovative. e dal punto di vista delle esperienze lavorative, ho fatto, durante il percorso accademico, ho fatto anche due stage estivi, uno in una società di consulenza IT a Milano, un'altra esperienza, un pochino dopo, invece, a Miami, in una start-up di Miami, è stato molto interessante, soprattutto perché ero a Miami, quindi direi che il luogo compensava tutto, e poi adesso sono entrato da gennaio 2018 in Iguai, dove sono Senior Consultant e faccio parte del team Innovation & Fintech. Iguai, appunto, mi occupo di tutte le tematiche di innovazione legate al mondo dei Financial Services e quindi in particolare, poi, di tutto il mondo Fintech. Nel marzo 2018, prima apro una breve parentesi su Iguai, per chi non dovesse conoscerla, Iguai è divisa completamente in due parti, cioè la parte dei Financial Services, dove sono io, dove i nostri clienti sono esclusivamente banca, assicurazione, società di welfare management, e poi c'è la chiamata Iguai FSO, e poi c'è la parte invece Iguai chiamata Iguai MED, MED sta per regione mediterranea, dove appunto si occupano di clienti, tutto ciò che non è FSO, quindi clienti automotive, retail, telco, media, eccetera, energy. A marzo 2018, tra l'altro, avvito anche un concorso, un concorso di innovazione nazionale, chiamato Bucconi for Digital Publicas, Administration, B4 DPA, proponendo una soluzione blockchain, per gestire le transazioni immobiliari, quindi una blockchain per i notai, appunto, per gestire le transazioni immobiliari. Di cosa parlerò oggi? Parleremo di innovazione, in senso un po' più ampio del termine, per poi fare un focus specifico sul mondo fintech, che appunto è quello di cui mi occupo tutti i giorni. Diciamo che la pretesa non è quella di fare una lezione, cioè di spiegarvi, di insegnarvi qualcosa, è più di raccontare un po', soprattutto tramite dei casi di mercato, quindi dei case study di mercato, un po' di innovazione, e poi appunto focalizzarci sul mondo fintech. Per poi appunto finire con una panoramica del mondo del lavoro del settore fintech. Come qua abbiamo fatto una ricerca molto importante, dove abbiamo analizzato nel dettaglio tutte queste tematiche del mondo fintech, quindi esempio come sono composti i team delle fintech, qual è l'età media, il percentuale uomini e donne, ma poi vedremo tutto. E non voglio fare troppi spoiler, quindi direi di iniziare. Premetto che sono un grande fan delle citazioni, e quindi diciamo che per introdurre ogni sezione del webinar mi utilizzerò delle citazioni un po' come base di partenza. Per parlare di innovazione ho scelto una citazione di Henry Ford. Henry Ford, penso che tutti lo conosciate, è colui che ha fondato la casa automobilistica Ford e diciamo ha dato vita al cosiddetto mercato degli automobili di massa. Henry Ford disse se avessi chiesto ai miei clienti cosa volevano mi avrebbero risposto un cavallo più veloce. Secondo me questa citazione è molto interessante perché delinea un po' quali sono appunto le caratteristiche dell'innovazione, ma soprattutto i tratti, le caratteristiche che un innovatore deve avere, ovvero quella capacità un po' di vedere oltre, di riuscire a... cioè a vedere oltre quello che c'è in questo momento, ma soprattutto di riuscire a medesimarsi negli occhi del proprio potenziale cliente e capire quali sono i suoi bisogni, ma specialmente di capire e interpretare quei bisogni che magari attualmente sono inespressi. Esempio Henry Ford appunto diceva che i clienti in quel momento non pensavano neanche di volere un'automobile, ma pensavano diciamo un cavallo più veloce. Invece lui è riuscito a capire che i clienti in quel caso desideravano avere qualcosa che anche loro sapevano in realtà di desiderare. Questo è in realtà un tratto comune che i grandi innovatori nel corso della storia hanno avuto, in tempi più recenti, pensiamo ad esempio all'Apple, a Steve Jobs, al lancio dell'iPhone, dell'iPad, cioè prima diciamo che entrassero sul mercato, cioè diciamo che Steve Jobs ha creato quel mercato, ha creato quel bisogno che prima in realtà era diciamo in espresso. Così come ad esempio Amazon, Amazon è una cultura di innovazione basata in modo molto, in modo molto diciamo focus su quello che loro chiamano sessione per i clienti. Cioè in Amazon qualsiasi nuova innovazione, qualsiasi prodotto che portano è pensato e studiato in un'ottica nell'ottica dei potenziali clienti. Quando si parla di innovazione penso che tutti noi abbiamo un bias a pensare all'innovazione come esclusivamente all'innovazione tecnologica, ma soprattutto all'innovazione di prodotto. Penso che se vi chiedessi ditemi qualcosa di innovativo, cioè parlatemi di innovazione, penso che a tutti voi venga in mente come prima cosa parlarmi di nuovo iPhone, la Tesla, quindi proprio diciamo un'innovazione legata al prodotto, ma l'innovazione in realtà non è legata al prodotto, ma non è solamente legata al prodotto. Infatti nei primi anni 2000 dei ragazzi di Dublin, Dublin è una società di consulenza legata al mondo dell'innovazione che da qualche anno è entrata a far parte del network di Deloitte, hanno analizzato le aziende più innovative del mondo intorno agli anni 2000 hanno definito attraverso questo framework quali sono i dieci tipi di innovazioni che le principali aziende innovative del mondo mettono in pratica e appunto li ha definiti in questo framework molto semplice e molto intuitivo. E sono appunto dieci blocchettini suddivisi in tre macro aree che sono il primo, la configuration, intesa più come configurazione di modello di business, quindi fare innovazione modificando il proprio modello di business, quindi come proprio si porta avanti il business, innovazione a livello di offering, quindi fare innovazione a livello di offerta, di prodotto, di servizio, e qui poi vedremo come ricada l'innovazione standard da cui pensiamo tutti di fare un nuovo prodotto più innovativo, più tecnologico, che funzioni meglio, oppure l'innovazione a livello di esperienza, quindi fornire un'esperienza nuova, un'esperienza diversa al proprio cliente. Premetto che diciamo che le aziende innovative non è che ragionino a compartimenti stagni, nel senso non è che sono innovative perché fanno uno di questi, o per essere innovative bisogna esclusivamente farne uno di questi dieci, ma anzi, come vedremo dopo, le aziende che riescono a sfruttare e a far leva su uno o più blocchetti di questi, cioè specialmente poi vedremo che più ne utilizza di questi dieci tipi, e poi avrà, sicuramente, ed è stato dimostrato anche in modo empirico, più successo. E tanto non sono neanche disposti in modo casuale, perché se ci facciamo caso, diciamo che a sinistra ci sono, c'è un tipo di innovazione, se vogliamo chiamarla, più interna, cioè che magari è meno visibile agli occhi del cliente, perché appunto si tratta di una configurazione del modello di funzionamento dell'azienda, mentre a destra abbiamo un'innovazione più esterna, cioè che è molto più visibile agli occhi, diciamo, di un cliente finale, come potremmo essere noi. E il primo modello, il primo tipo di innovazione che le aziende particolarmente innovative fanno è cambiare il proprio profit model, quindi il modo in cui queste aziende appunto fanno i ricavi, fanno profitto. E un esempio che ho portato, per ognuno di questi blocchetti ho portato un esempio moderno, diciamo che ci può aiutare a capire, è Spotify, cioè pensiamo a Spotify, pensiamo a Netflix, che hanno introdotto il modello di subscription, quindi prima, esempio, se volevo ascoltarmi una canzone, dovevo comprarmela, o dovevo addirittura comprare un intero CD, adesso con Spotify posso farmi un abbonamento mensile, posso ascoltarmi tutte le canzoni che voglio. A livello di network è molto importante, perché probabilmente ne avrete sentito parlare, si parla molto spesso di open innovation, e il concetto di network è questo. Cioè, cos'è l'open innovation? Open innovation vuol dire allearsi, fare, diciamo, network, ragionare in ottica aperta, e quindi allearsi appunto con altri player che possono essere addirittura e della stessa settore, possono essere anche concorrenti, come qui ho riportato il caso di Ford e Volkswagen, che hanno fatto una partnership, adesso poi vi spiegherò di che cosa, ma appunto fare partnership con player o della stessa industry, o di industry completamente diverse, per appunto fare qualcosa di innovativo insieme, e quindi si parla appunto di open innovation, perché l'innovation in questo caso non è interno, cioè non è che bisogna per forza spendere miliardi in ricerca e sviluppo internamente, ma facendo appunto partnership e ragionando a livello, diciamo, ecosistemico con altri player, si possono raggiungere i risultati in modo molto più veloce e anche spendendo molto meno. In questo caso Ford e Volkswagen hanno fatto una partnership per studiare le auto elettriche e le auto a guida autonoma. Sempre a livello di configurazione, si può fare innovazione modificando la struttura aziendale, intesa come allineamento dei talenti e gli assets. Qui ho riportato Google, perché diciamo che tutti sappiamo che Google è sicuramente una delle aziende che attrae i più talenti sul mercato, ma soprattutto Google, ad esempio, ha dato vita a un programma dove i propri dipendenti possono dedicare una percentuale del proprio tempo di lavoro per pensare a prodotti innovativi che siano anche completamente distanti dal core business di Google. In questo modo, ad esempio, è nato Gmail, che è un programma di punta di Google. A livello di processi, ho riportato a McDonald's, perché penso sia un esempio palese, anzi, se qualcuno non ha ancora fatto, consiglio di odiersi il fin di founder, che parla proprio di questo, cioè McDonald's ha inventato il modello di business, di processi del fast food. E poi passiamo a livello di offering, che è un po' più comune per chi pensa all'innovazione. E il primo è quello di product performance, cioè innovare facendo, migliorando un prodotto e facendo in modo tale che offra delle performance pazzesche. Qui ho riportato l'esempio di Dyson, che si occupa di produrre scopi elettriche e aspiratori, che sicuramente, cioè se pensiamo alla scopa elettrica migliore, ci viene in mente Dyson. Oppure il product system, ovvero fornire prodotti e servizi complementari che creino appunto un ecosistema di prodotti. Qua pensiamo all'Apple, con l'iPad, l'iPod, l'iPhone, il Mac, le Airpods, iCloud. Quindi difficilmente, se ci pensiamo una persona che ha un prodotto Apple, ne ha solo uno. Diciamo che se qualcuno entra, diciamo, a far parte del ecosistema Apple, tende ad avere molti più prodotti e poi tende anche a uscirne, diciamo, meno facilmente, perché una volta che sei dentro l'ecosistema, poi anche non è così semplice uscirne. E poi abbiamo l'ultimo macro segmento, come dicevo prima, che è quello di esperienza. Quindi innovare creando un'esperienza, diciamo, molto, un'esperienza pazzesca per il cliente. E come si fa per creare, per innovare attraverso l'experience? Facendo, diciamo, un servizio, quindi andando ad arricchire la propria offering tramite dei servizi che vadano, siano un po' olistici, quindi che vadano a coprire più punti, vadano anche qui a creare un ecosistema, e qui pensiamo ad Amazon Prime, cosa fa? Offre sicuramente un'esperienza pazzesca, non solo in termini di spedizione più veloce, però adesso c'è anche Prime Video, hanno anche da poco, ad esempio, acquistato i diritti per la Champions League, adesso faranno un'offerta anche per i diritti della seriale di calcio, quindi stanno creando tutto un ecosistema di servizi ad altissimo valore aggiunto per il cliente. Si può fare innovazione cambiando il canale di accesso a questi prodotti e a questi servizi, cioè pensiamo a cosa ha fatto Annespresso, prima comprare il caffè, era un'azione normale che non è che fosse particolarmente innovativa o piacevole da fare, cioè se andava al supermercato, si comprava il caffè, ma non è che ci fosse dietro tutta questa innovazione. Annespresso invece ha creato le boutique del caffè, dove adesso andare a comprare il caffè in espresso è comunque un'esperienza, perché entri, ti offrono come prima cosa il caffè, poi ti iniziano a parlare, ti fanno assaggiare comunque le nuove capsule, e poi hanno creato questa esclusività appunto delle boutique in espresso. Poi si può fare innovazione a livello di esperienza, facendo leva sul brand e sui valori del brand, pensiamo a Patagonia, che è un brand che ultimamente sta avendo molto successo, e dove Patagonia si è focalizzata molto sui valori che trasmette, quindi sui valori di sostenibilità, di green, e quindi anche chi acquista Patagonia perché si riconosce particolarmente in questi valori. Invece l'ultimo è il customer engagement, quindi interagire particolarmente con il proprio utente, con il proprio customer, e un esempio che ho portato, forse il meno conosciuto, è Peloton, Peloton è un'azienda americana che produce Ciclette e Tapirulan all'avanguardia, ma soprattutto che incorporano all'interno uno schermo dove le persone diciamo stile Nintendo Wii possono poi competere in diretta con altre persone, quindi ad esempio fanno le gare di bici, però diciamo sulla Ciclette, contro altre persone, c'è dentro anche una specie di social network, quindi hanno creato tutto questo ecosistema, e questo sistema come un gioco, possiamo chiamarlo anche un po' di gamification, che è un'altra parola che adesso viene usata molto spesso, dove appunto il customer è molto coinvolto coinvolto in tutto il processo. E come dicevo prima, le aziende più innovative tendono a utilizzare non solo un modello alla volta, ma più modelli possibili, empiricamente è stato dimostrato che quanti più tipi di innovazione le aziende riescono a sfruttare, infatti, torno un attimo indietro, se pensiamo a questi casi, cioè difficilmente questi casi riescono ad essere classificati solamente all'interno di un blocchettino, perché comunque, ad esempio, prendiamo Spotify il primo, sì, ha fatto un nuovo profit model, ma poi anche a livello di product performance, ad esempio, cioè Spotify si sente benissimo, non salta mai la connessione, e via dicendo, quindi molto spesso non è che è semplice anche classificarli solamente all'interno di un blocchettino. E appunto, come dicevo, anche empiricamente è stato dimostrato che quanti più tipi di innovazioni sono riusciti le aziende a integrare, a far leva, tanto più hanno avuto successo in determinato periodo di tempo. Se vediamo questo grafico, dal 2007 al 2011, i ragazzi di Doblin hanno preso come benchmark, che si vede in rosa, lo stock price di Standard & Poor's 500, che è un indice di borsa americano, che, diciamo, ricalca, diciamo, che analizza le prime 500 compagnie americane per market cap, e appunto l'ha paragonato con le aziende che hanno utilizzato in base alla scala di colori, o uno, due tipi, o tre, quattro, o addirittura più di cinque tipi di innovazioni. Vediamo che appunto gli stock price di chiunque abbia usato almeno un tipo di innovazione, ma vediamo quello con 5+, ha sicuramente overperformato in questo arco di tempo, anzi non ha mai performato peggio di lo Standard & Poor's 500. Quindi, fare innovazione è importantissimo. Però non è, cioè, fare innovazione non è mai così semplice. Nella storia, diciamo, ci sono stati casi di grandi fallimenti. Qua ho riportato Nokia, Blockbuster, Kodak, adesso non sto qui a raccontare ogni singolo caso di Nokia, Kodak e Blockbuster, anche perché sono abbastanza famosi, tutti li conosciamo, ma specialmente se si fa una lezione, cioè, negli ersi tag, così, sono sempre i casi che vengono presi in considerazione. Ma, in realtà, vorrei spendere due parole su questi casi, spezzando una lancia a favore di queste compagnie, perché, penso che, questo è anche un parere personale, penso sia facile dire che innovare è fondamentale per rimanere a passo con i tempi, e questi sono casi di aziende che erano leader nei loro segmenti di mercato, e poi sono clamorosamente falliti. Però, cioè, a posteriori, penso sia facile giudicare, però, dico, poniamoci nei loro panni, ad esempio, Kodak era indubbiamente il leader di mercato nella fotografia ottica, e, quando è scoppiata, diciamo, la fotografia digitale, non è che non l'abbiano completamente considerata, anzi, avevano fatto un sacco di ricerche interne, ma, avevano considerato, innanzitutto, che la fotografia digitale, per raggiungere lo stesso livello di qualità delle foto rispetto a fotografia ottica, ci sarebbero passati altri, minimo dieci anni, e quindi non era un, diciamo, una situazione così, così impellente, diciamo, da affrontare. E poi avevano comunque un business che andava molto, molto bene, e quindi anche rischiare di fare, diciamo, un pivot, cioè, di cambiare il modello di business, di buttarsi in un prodotto, in un servizio radicalmente diverso, era comunque un grosso rischio, quindi, in realtà, cioè, a posteriore è facile dire che polli che sono stati, ma in realtà, dico, se ci poniano i loro panni, non era per niente così semplice. E, infine, vorrei parlarvi di un altro tipo di innovazione, un caso del mercato molto particolare che penso nessuno di voi abbia mai sentito parlare, ma prima di cambiare slide, vi anticipo, che nella prossima slide ci sarà una foto di un prodotto che vende questa società, e vi chiederei di immaginare, così proprio, a primo impatto, appena cambio slide, secondo voi, qual è il prodotto che vende l'azienda che vi faccio vedere, proprio, di impulso. Vado? Penso che, scommetterei che il 99% di voi abbia pensato che questa azienda vende televisori, no? È quello che avevo pensato anche io quando ho visto questa immagine. In realtà, no, non è un'azienda che vende televisori, ma Van Moof è un'azienda olandese, se non ricordo male, che vende biciclette elettriche. E perché ha un televisore sull'imballaggio delle proprie biciclette? Van Moof era un'azienda, appunto, che va molto bene e nel 2015 decise di espandere il proprio business negli Stati Uniti, ma aveva un grosso problema. Le biciclette arrivavano negli Stati Uniti sempre distrutte, cioè, arrivavano ed erano danneggiate perché durante, appunto, la spedizione venivano sballottate qua e là e arrivavano completamente distrutte e quindi c'erano un sacco di clienti che si lamentavano. Van Moof le provo tutte, provo prima a imballare in modo diverso, quindi a usare più quella plastica o quelle palline che scoppiano, più giri di quello, niente. Provò a inspessire il cartone, niente. Provò a imballarle in modo diverso, a disporle internamente in modo diverso, niente. provò addirittura a cambiare azienda di spedizione perché si affidava ad un'azienda di spedizione esterna, niente, ne cambiò due o tre, niente. Fin quando un co-founder di Van Moof pensò, ma perché non disegniamo un televisore sulla scatola? Tanto le dimensioni più o meno sono quelle, la forma è quella, il peso più o meno ci siamo e sfido chiunque, sfido una persona che fa il consegno a dita e spedizioni a prendere in mano un pacco del genere con disegnato una tv a schermo piatto a trattarla, a lanciarla, diciamo, a trattarla male. Quindi, hanno provato, hanno detto, proviamoci, hanno disegnato una televisione sullo schermo, dentro comunque c'è sempre una bicicletta, non c'è un televisore ed effettivamente nel giro di una settimana ha ridotto dell'80% il tasso di biciclette danneggiate che sono arrivate negli Stati Uniti. quindi questo è un caso come ogni tanto diciamo con un'idea geniale o se vogliamo chiamarla anche una botta di fortuna si riesce diciamo anche a innovare questo è un po' il concetto poi di serendipiti quindi diciamo dell'innovazione che nasce un po' dalla casualità anche ad esempio la Nutella si dice che sia nata un po' per casualità. Adesso vediamo forse c'è una domanda TV eh vedi Lorenzo no in realtà vedeva appunto biciclette come ti dicevo andiamo avanti la prossima sezione che parla sempre di innovazione e partiamo sempre da una citazione non è una citazione di un grande manager anche se anche se penso che se togliessimo la foto di sinistra che è del bianconiglio penso in realtà non finché non ho visto e togliessimo chi ha detto questa da dove viene questa citazione potremmo attribuirla probabilmente a qualsiasi grande manager d'azienda che dice qui devi correre più che puoi per restare nello stesso posto se vuoi andare da qualche parte devi correre almeno il doppio questo mi serve per introdurre un concetto di velocità cioè l'innovazione che è sempre più si chiama tutti ne parlano adesso è un termine abusato di disruptive cioè di rompente un'innovazione che è sempre più veloce che sempre in meno tempo diciamo riesce a entrare nel mercato e spesso a conquistare il mercato e infatti velocemente si vede in questa immagine questi sono diciamo il numero di anni necessari per raggiungere 50 milioni di utenti di determinati prodotti o servizi ci sono dagli aeroplani le automobili il telefono elettricità eccetera fino a instagram pokemon go gli aeroplani ci ha messo 68 anni a raggiungere quota 50 milioni di utenti televisioni 22 il telefono cellulare 12 anni facebook 3 instagram 17 mesi pokemon go 19 giorni quindi diciamo che l'innovazione quindi è sempre più veloce sempre più dirompente ma se vogliamo anche in alcuni casi anche un po' più effimera perché cioè pensiamo ad esempio gli aeroplani tutt'oggi li usiamo a parte adesso che non si può viaggiare create card li usiamo anche se poi col fintech magari ogni tanto un po' di meno come vedremo però ad esempio instagram ce l'abbiamo ancora pokemon go penso che chiunque uno l'abbia installato quando si è uscito ma sfido chiunque a dirmi che a distanza di mi ricordo anche quanti anni fa si è uscito comunque adesso a dire che effettivamente ha pokemon go installato ma più che altro magari ci ha installato ma che ci giochi ancora questo appunto per dire che l'innovazione è sempre più più veloce e questo concetto di velocità è un concetto molto importante e adesso vorrei introdurvi diciamo una chicca legata al mondo dell'innovazione che probabilmente non avete mai sentito parlare almeno consciamente magari non non avete mai sentito parlare però inconsciamente è un concetto che vi è familiare però appunto è stato teorizzato recentemente da un grande uomo di business ma per fare questo partirei un pochino più indietro quasi da una tantina di anni fa parlando del blitzkrieg la guerra lampo adesso non è che voglio fare una lezione di storia ma velocemente la guerra lampo cos'era? era una tecnica usata dall'esercito dei tedeschi e consisteva nel concentrare in un luogo ben preciso quindi diciamo delle linee una città magari delle linee nemiche un grandissimo quantitativo di risorse in termini numerici quindi di numeri di soldati ma anche in termini economici cioè quindi concentravano il più alto numero possibile di risorse per sfondare la linea nemica nel più breve tempo possibile così in modo tale da non dare la possibilità all'avversario all'avversario al nemico di reagire e questo concetto di blitzkrieg quindi di guerra lampo è stato ripreso recentemente anche nel mondo del business da Ray Doffman Ray Doffman forse avete sentito parlare il co-founder di LinkedIn che ha scritto insieme a un giornalista a questo libro che si chiama Blitzscaling cos'è Blitzscaling? Blitzscaling è la scienza e l'arte come la definiscono loro di costruire rapidamente una società una compagnia per servire un mercato molto ampio e globale con l'obiettivo di diventare il first mover in questo mercato appunto Blitzscaling la parola è blitz come dicevamo prima e scaling to scale nel mondo del business scalare un business vuol dire appunto farlo crescere più velocemente farlo crescere farlo portare magari anche al di fuori dei confini nazionali e questa tecnica del Blitzscaling quindi appunto consiste nel concentrare tutte le risorse economiche di un'azienda nel breve termine verso un unico obiettivo che è quello di scalare più velocemente possibile cioè conquistare la più grande fetta di mercato possibile anche a costo di appunto di utilizzare un enorme cioè ingenti risorse economiche e anche a costo di sacrificare alcuni lati del business diciamo a scapito di altro tipo Paypal all'inizio poi vedremo perché il suo obiettivo che era quello appunto di fare Blitzscaling sacrificò in modo particolare tutto il discorso di customer service e addirittura anche in realtà di sicurezza legata al mondo frodi il suo obiettivo era quello di scalare più velocemente possibile perché questo succede molto spesso nelle cosiddette piattaforme diversanti two sided platform cosa sono le piattaforme diversanti breve definizione teorica le piattaforme diversanti sono quelle piattaforme dove l'utilità degli utenti da un lato della piattaforma cresce in maniera esponenziale tanto più è alto il numero di utenti dall'altro lato della piattaforma e viceversa facciamo un esempio Uber io che sono una persona che vive a Milano un utente perché mi installo Uber perché voglio naturalmente che qualcuno mi dia un passaggio a pagamento però perché installo Uber e non ad esempio Lyft che è un concorrente perché io so che quando apro Uber innanzitutto non voglio aspettare due ore prima di trovare una macchina libera come faccio a non aspettare due ore non aspetto se ci sono tanti autisti di Uber nella mia città quindi perché installo Uber non Lyft perché sono sicuro che quando apro Uber ho a Milano 2000 autisti pronti a tirarmi su e invece Lyft magari ce ne sono due che sono sempre occupati perché ce ne sono solo due e quindi più più alto il numero di autisti e più per me c'è utilità nell'utilizzare Uber e viceversa penso agli autisti perché gli autisti dicono mi installo Uber non mi installo Lyft cioè perché decido di lavorare per Uber non per Lyft perché sanno che il numero di utenti dall'altro lato che ha installato Uber sul telefono che utilizza Uber è sicuramente più alto di quello di Lyft e quindi decidono di lavorare per Uber e quindi si innesca questo meccanismo appunto dove l'utilità di un versante ad esempio delle persone che utilizzano Uber è molto più alto quanto è più alto il numero di utisti e viceversa e quindi cosa c'entra col blitzscaling? C'entra perché appunto riuscire a essere il first mover nel mercato e riuscire a conquistare il più alto numero di utenti possibili la massa critica di utenti e quindi raggiungere diciamo un tasso di adoption molto alto è importante perché una volta che riesci appunto a raggiungere questa massa critica a fare in modo tale che gli utenti utilizzino la piattaforma da un lato e dall'altro poi sei il first mover e hai il vantaggio del first mover quindi poi il mercato è praticamente solo tu e quindi per questo motivo aziende come Paypal Paypal LinkedIn Uber utilizzano blitzscaling cioè spendono tantissime risorse nei primi anni di vita infatti stanno a vedere i bilanci di Uber un po' di tutte queste nuove tech company i primi anni sono veramente sono in perdita ma di cifre molto sostanziose perché appunto attuano questa tecnica di cercare di prendersi il più alto numero possibile di utenti nei primi anni di vita anche di scapito appunto di di altri di altri fattori e appunto tutto questo è amplificato dal digitale naturalmente perché appunto le piattaforme diversanti cioè se pensiamo ad esempio di piattaforme diversanti Uber eccetera cioè sono tutte piattaforme tecnologiche quindi il digitale il digitale è un eneble è un abilitante di questi modelli di business e il digitale sta cambiando anche le nostre aspettative come consumatori in qualsiasi ambito cioè pensiamo ad esempio Amazon, Netflix, Spotify cioè noi come consumatori siamo abituati ormai ad avere un livello di customer experience pazzesca in qualsiasi cosa che facciamo cioè per scegliere un film ascoltare la musica acquistare un prodotto cioè apriamo accendiamo il telefono con due tocchi riusciamo a fare qualsiasi cosa che desideriamo in pochissimo tempo in modo super intuitivo super facile cioè abbiamo mai letto un manuale di istruzione di Amazon di Netflix o di Spotify e quindi inconsciamente cioè consciamente e inconsciamente sempre più ci aspettiamo appunto di di ricevere un po' lo stesso la stessa customer experience la stessa appunto esperienza di utilizzo di questi prodotti e questi servizi anche in altri settori completamente diversi tra cui appunto quello finanziario e qui diciamo poi si come vedremo adesso nasce tutto il mondo fintech sotto ho riportato qualche dato che appunto dimostra come ormai per i consumatori l'esperienza che uno vive durante appunto l'acquisto o la fruizione di un prodotto o un servizio è tanto importante quanto i prodotti e i servizi e addirittura poi il dato tutto sulla destra dice che il 73% dei clienti tra i 18 e i 34 anni sono disposti ad acquistare prodotti finanziari e aziende tecnologiche quindi anche il fatto ad esempio di utilizzare Google da un lato ci crea delle problematiche a livello di privacy però sotto sotto ci piace che è tutto molto più semplificato magari inserire 10.000 password ogni volta appunto questa user experience diciamo ci aspettiamo di riceverla sempre in più settori dal pagare le bollette a utilizzare i servizi finanziari c'è una domanda ma questa le rispondo dopo chiede è sparita no eccolo qua puoi fare un esempio di un prodotto finanziario di un'azienda tecnologica vediamo dopo sicuramente le vediamo quando facciamo parliamo di fintech in generale adesso iniziamo a parlare di fintech quindi e qui come dicevo prima una citazione come introduzione delle varie sezioni questa è di Anthony Jenkins l'ex amministratore delegato di Barclays che dice che le banche sono sull'orlo del loro momento Kodak abbiamo visto prima che diciamo esempio di fallimento di mancata innovazione appunto che rischiano di diventare irrilevanti se non riescono a stare al passo coi tempi con tutte le innovazioni tecnologiche portate dal mondo fintech ma quindi cos'è il fintech partendo proprio dalla parola fintech la parola fintech è l'unione delle parole financial technology e descrive il settore innovativo che mira a fornire prodotti e servizi finanziari abilitati dalle nuove tecnologie con approcci disruptive quindi completamente diversi rispetto appunto ai modelli tradizionali adesso se non avete capito benissimo la definizione fintech non vi preoccupate perché tanto in un modo ve la ripeterò 200 volte con parole diverse da adesso in poi ma partiamo anche a definire cosa non è il fintech qui ho riportato degli screenshot dell'online banking delle banche negli anni 2000 e nel 2021 sulla destra cioè questo aggiornare il sito web della banca non è fintech perché come dice la definizione sì sono prodotti e servizi finanziari diciamo digitali abilitati a nuove tecnologie però con un approccio disruptive rispetto ai modelli tradizionali cioè di disruptive nell'aggiornare un sito web in realtà non c'è niente nel senso negli anni 2000 potevo fare praticamente le stesse azioni che posso fare adesso potevo fare un bonifico potevo controllare il mio saldo eccetera magari era un po' più un po' più lungo da fare perché era un po' più un problema magari trovare nella pagina dove dovevo andare i dati da inserire o magari caricava molto più lentamente ma a parte probabilmente quello che era un problema di internet in generale nel 2021 cioè le azioni che posso fare sono le stesse magari hanno introdotto il bonifico istantaneo che ci mette bene ad arrivare però non è che ci siano stati grandi cambiamenti se non l'interfaccia grafica quindi sì la customer experience che è un elemento fondamentale come vedremo dopo delle soluzioni fintech però non è cioè non è che migliorare la customer experience di un sito fa in modo tale cioè puoi definire un prodotto che è fintech solo perché c'è una customer experience migliore quindi questo non è fintech ma soprattutto perché adesso tutti parlando del fintech cioè perché da due o tre anni circa adesso si andiamo a parlare di fintech ovunque cioè tutti parlando di fintech fintech eppure tipo paypal che è una grandissima fintech cioè è nata nel 1998 quindi perché negli ultimi anni si parla di fintech qua c'è una breve una breve storia del fintech che parte dal 1950 dove nasce la prima carta di credito negli Stati Uniti nel 95 nasce amazon con il sistema del close loop wallet che vuol dire in poche parole che potete salvare in amazon i tuoi dati a carta di credito nel 98 nasce paypal quindi già nel 98 in realtà si è iniziata a parlare di fintech anche se non c'era questa concezione del fintech come c'è adesso negli anni 2000 sono nate le prime banche online nate negli anni 2000 perché innanzitutto cioè nacquero come prime principalmente le banche di trading perché perché negli anni 2000 come tutti sappiamo c'è stata la bolla delle dot com la cosiddetta bolla delle dot com dove la gente voleva investire nei titoli delle aziende super tecnologiche erano appunto tutti volevano cavalcare l'onda quindi volevano far trading e quindi le banche appunto che permettano di far trading si sono lanciate sull'online e diciamo questo è un po' il motivo nel 2009 vabbè è stato pubblicato il white paper di bitcoin nel 2013 google ha introdotto il google wallet quindi si poteva pagare come si può fare tuttora col chip nfc sul telefono e poi nel 2015 nasce la psd2 questo è secondo me il turning point del mondo fintech cioè nasce nel 2015 questa direttiva europea che adesso vado a spiegare brevemente chiamata psd2 psd2 vuol dire payment service directive 2 viene recepita nel 2000 è una direttiva europea che viene recepita nel 2018 in Italia e che abilita un sacco di funzionalità cioè da un po' ha dato una scossa molto importante a tutto il mondo finanziario appunto da lì è per quello che si è iniziato a parlare di fintech perché con la psd2 sono stati regolamentati in modo diciamo più specifico tutto il mondo dei pagamenti digitali ed è nato l'open banking che appunto è poi quello che appunto sta dando vita a tutto questo fermento legato al fintech cos'è l'open banking? l'open banking appunto che nasce con la direttiva della psd2 consente ai clienti di condividere naturalmente sempre sotto accettazione i propri dati bancari con dei cosiddetti third party participants quindi con delle terze parti al fine di appunto di creare del valore aggiunto per gli utenti poi mi spiego meglio però cioè perché nasce l'open banking? da quale necessità? nasce innanzitutto da una necessità appunto dei consumatori come dicevamo prima di usufruire di prodotti e servizi finanziari che siano al passo con i tempi come dicevamo prima ci siamo abituati a Netflix a Spotify eccetera a un determinato stile di fruizione dei nostri prodotti e servizi in altri ambiti perché non averlo neanche nel mondo finanziario quindi nasce da una spinta del consumatore nasce da una spinta tecnologica quindi naturalmente le tecnologie si stanno evolvendo e quindi anche la tecnologia porta a innovazione e poi da appunto una spinta regolamentare che è la psd2 che ha dato diciamo vita a tutto questo la psd2 appunto nasce per il settore dei pagamenti digitali però appunto consente questa cosa quindi quello di condividere sempre se l'utente accetta i propri dati finanziari con dei third party participants e la psd2 l'open banking quindi diciamo è nata appunto con l'obiettivo di scuotere un po' i servizi in modo dei servizi finanziari perché era appunto un mondo che era un po' chiuso erano tutti diciamo contenti di quello che stavano facendo e c'era poca concorrenza perché appunto per gli altri player era difficile entrare in questo settore e appunto con anche l'obiettivo di stimolare l'innovazione e quindi appunto la psd2 consente alle persone a noi utenti cioè persone come noi di dare il consenso di inviare i nostri dati finanziari a delle terze parti che possono essere sia altri enti finanziari sia anche enti non finanziari e qua infatti si parla di ISP e PISP cioè quindi possono sia inviare le informazioni finanziarie ma anche addirittura disporre ordini di pagamento cioè faccio un esempio magari a qualcuno di voi è capitato molto spesso adesso le banche innanzitutto le banche sono obbligate cioè se io dico alla mia banca di inviare le informazioni a un'app che decido io tipo inviare i miei dati finanziari all'app Pinco Pallino la banca per legge deve farlo cioè la banca con la direttiva PSI2 è obbligata se io lo consento a inviare i miei dati sotto forma di API che è un flusso di dati quindi se io ad esempio faccio il login su un'applicazione che magari mi aggrega tutti i miei conti bancari perché io sono stufo magari ho tre conti uno in Tesa San Paolo in Unicredit e uno in Banco BPM poi sono stufo ogni volta per sapere quanti soldi ho in banca di dovermi loggare su tre app diverse cosa faccio? c'è un'app che adesso in lettura anche le banche stesse lo stanno facendo magari mi collega a un'app di account aggregation e dico a quest'app ok tu accedi ai miei conti in Tesa in Unicredit e in Banco BPM e fammi vedere il mio saldo quindi l'applicazione manda una richiesta a queste le mie banche dice inviatemi i dati finanziari di Federico Tiel le banche sono costrette a inviarle quindi questa applicazione riceve questi dati e mi mostra in una sola applicazione tutti i dati delle mie diverse banche e addirittura io posso da questa applicazione anche disporre di ordini di pagamento tramite questa applicazione che poi in realtà si appoggiano alla mia banca e questo cosa consente? consente appunto cioè nel modello di banking tradizionale i miei dati erano di proprietà esclusiva della banca e quindi i miei dati di intesa rimanevano intese i miei dati di Unicredit rimanevano di Unicredit eccetera mentre con questo modello appunto si crea un open ecosystem quindi anche altri player possono accedere ai miei dati e possono propormi prodotti e servizi che si basano su questi dati e che appunto mi portino un valore aggiunto poi vedremo un pochino meglio in dettaglio quali sono un po' le categorie del fintech? qui queste categorie le abbiamo individuate nella ricerca appunto che abbiamo fatto come i guai e nel fintech abbiamo trovato 17 categorie e le abbiamo divise tra l'altro in pure fintech e techfin la differenza qual è chiamiamolo tutto fintech però all'interno del fintech appunto abbiamo quelle fintech un po' più pure che seguono quella definizione di fintech che abbiamo andato prima quindi prodotti e servizi finanziari abilitati a nuove tecnologie con un approccio disruptive e poi abbiamo il techfin che in realtà è un po' cioè sono le nuove tecnologie al servizio dei prodotti e dei servizi finanziari poi adesso con gli esempi magari è un po' più chiaro nel pure fintech abbiamo il crowdfunding che penso tutti conosciate anche perché poi durante il covid tutti parlavano di crowdfunding con le campagne appunto di crowdfunding di raccolta fondi per gli ospedali eccetera ma il crowdfunding non è solo quello ci sono diverse tipologie di crowdfunding c'è quello appunto donation based quindi per le donazioni che è un po' quello che è stato usato per gli ospedali ma c'è anche un crowdfunding un po' più finanziario cioè io posso addirittura ci sono delle piattaforme italiane molto famose addirittura quotate in borsa dove io posso partecipare si chiama equity crowdfunding posso partecipare all'equity nel capitale sociale di un'azienda insieme ad altre persone poi c'è tutto il mondo neobanks quindi le nuove banche digitali e qui alcuni esempi abbiamo appunto Revolut N26 N26 AIP che è italiana è di banca Sella e appunto sono tutte quelle banche che nascono in modalità esclusivamente digitale che non hanno quindi alcuna filiale e che sono appunto accessibili tramite tramite smartphone e addirittura a volte neanche dal sito infatti penso che ad esempio Revolut sia accessibile solamente da smartphone erano tutte le applicazioni Smart Payment e Money Transfer qui pensiamo a Satispay che è probabilmente la più famosa tutte le applicazioni che permettono di fare trading quindi compravendita di titoli tutto ciò che è legato al mondo delle criptovalute qui anche qui non spenderei troppe parole tutto il mondo Welltech questo è molto interessante ad esempio c'è un'applicazione italiana molto famosa chiamata Money Farm quindi tutto anche la parte esempio di Robo Advisory quindi quelle soluzioni che ti permettono di investire tramite app in appunto servizi di wealth asset management e a volte appunto supportate i Robo Advisory quindi anche magari in maniera automatico supportate le decisioni da dei robot tra virgolette che fanno appunto calcoli statistici diciamo di ad analytics e ti investono anche per tuo conto i soldi tutte le applicazioni di lending quindi prestiti qui si apre un mondo perché c'è il lending sono i prestiti a clientela retail che siamo noi quindi persone fisiche o tutti i prestiti al mondo delle piccole e medie imprese o dei corporate quindi le grandi aziende e qui si apre un mondo cioè pensiamo faccio un esempio velocissimo cioè a fare un prestito a un ristorante un esempio poi qua sto banalizzando ci sarebbero molti più argomenti a tenere in considerazione però cioè pensiamo al ristorante a Milano a due ristoranti nella stessa via di Milano però per la banca probabilmente sono il numero di coperti è lo stesso la via è lo stesso cioè sono proprio situati nella stessa via il numero di coperti è uguale il fatturato storicamente era identico altri parametri sono uguali quindi per la banca probabilmente il profilo di rischio è lo stesso poi adesso vi dico cioè pensiamo se il ristorante A su TripAdvisor ha 4 stelle punto 5 su 5 il ristorante B ha una stella su 5 cioè penso che chiunque di noi prima di andare al ristorante ormai nebbiamo del male guardi le recensioni la banca non lo fa per adesso quindi mi immagino cioè a livello di profilo di rischio per la banca che sul lungo termine il ristorante con una stella probabilmente ha molte più probabilità di fallire rispetto al ristorante con 4.5 stelle su 5 di TripAdvisor però sono dati quindi questi dati non strutturati anche i dati dei social network anche magari appunto il numero di tag che uno si fa su Instagram in quel ristorante oppure anche magari il flusso di persone che passano in quella strada cioè Google vediamo quando c'è traffic in una strada no? perché segna di rossa addirittura c'era un caso di uno che aveva su una carriola messo non mi ricordo quanti smartphone e effettivamente su Google quella strada risultava rossa quindi proponeva delle deviazioni da quella strada ma era una persona con un carretto che si trascinava dietro il smartphone quindi anche esempio calcolare il traffico di persone che passano ad esempio magari appunto aprono un cantiere stradale di fronte e sai che per 5 anni che stanno magari facendo la metropolitana il flusso di persone è quasi inesistente quindi quei ristoranti sicuramente magari sono più rischiosi di altri ristoranti dove poi passano molte più persone quindi questi dati fino ad oggi difficilmente vengono presi in considerazione dalle banche ma ci sono appunto soluzioni di prestiti di landing che tengono in considerazione anche tutti questi dati mondo insurtech quindi è tutto quello legato al mondo assicurativo e qui si aprono una marea di prodotti e di servizi innovativi cioè pensiamo alle l'assicurazione tipo istantanee cioè per adesso non so quanti voi abbiano mai fatto un'assicurazione però stipulare un'assicurazione è un processo complicato molto spesso che richiede ancora paper based quindi bisogna stampare i fogli addirittura magari mandare il fax non più però mandare sicuramente le scansioni eccetera è super complicato e super time consuming con le soluzioni insurtech diciamo si tende a semplificare tutto il mondo dell'assicurativo offrire anche nuovi prodotti nuovi servizi ad esempio le instant insurance cioè ad esempio vado in viaggio sto per partire dico cavolo sto andando magari in Stati Uniti magari in Stati Uniti si fa prima l'assicurazione però magari sto andando in Inghilterra voglio assicurarmi contro la perita del bagaglio perché magari ho dentro un computer apro l'app in due secondi con due tapp sottoscrivo un'assicurazione contro il furto del bagaglio ma in tempo due secondi oppure vado sulle piste da sci magari il telefono col gps riconosce che sono nei pressi in una stazione sciistica mi mandano una notifica e dice ma perché non fai l'assicurazione sulle infortuni sullo sci ma in effetti non ci avevo pensato metto l'impronta digitale metto due dati magari faccio la foto a carta di identità posto ho stipulato un'assicurazione che dura per la giornata sciistica poi ci sono le applicazioni di pfm pfm vuol dire personal financial management che sono appunto un po' come dicevo prima questi si basano molto sull'account aggregation chi di voi ad esempio è intesa San Paolo so che lo fa ma sicuramente anche molte altre quando aprite ad esempio il vostro saldo il conto corrente si vede la classificazione delle spese cioè vi dice ok quelle spese le avete fatte questo mese avete speso 100 euro in cura della persona avete speso 200 euro in cibo eccetera questo appunto è personal financial management cioè gestione appunto delle proprie finanze personali ci sono applicazioni che vi aiutano anche in questo anche ad esempio nel gestire i vostri soldi nel creare magari un salvadanaio addirittura ci sono applicazioni ormai lo fanno anche quasi anche intesa lo fa ma anche applicazioni appunto bancarie ma nasce più l'applicazione un po' più un po' più fintech che arrotondano le spese cioè pagate un fatto un acquisto di 90 centesimi e i 10 centesimi per arrivare a un euro mancano appunto 10 centesimi e lui vi fa paga 90 centesimi naturalmente il negozio però si tiene 10 centesimi in un salvadanaio e poi a fine mese vi fa vedere che nel salvadanaio magari con queste spese che generalmente magari se pagate con le monetine quei 10 centesimi avete in tasca poi li perdete sicuro però 10 centesimi oggi 10 domani 10 dopo domani magari a fine mese vedete che avete 15 euro in più appunto si chiama appunto salvadanaio arrotondamento appunto per eccesso delle spese eccetera poi c'è tutta la parte di l'ultima categoria pure fintech che è l'invoice e tax management che è tutta la gestione delle fatture e appunto delle gestioni delle tasse per noi giovani magari un pochino meno attraente come settore però è un settore che soprattutto poi con la fatturazione elettronica che è uscita da qualche anno è molto importante dato techfin quindi quelle che offrono tecnologia servizio del sistema finanziario abbiamo tutte le fintech che offrono le techfin che offrono appunto servizi cyber security che è sempre più importante tutto ciò che è legato al mondo di open banking services e API come dicevo prima l'open banking permette lo scambio di informazioni e questo scambio di informazioni avviene attraverso l'API quindi application program interfaces che è appunto una roba un po' più informatica e questi appunto sviluppano queste cose un po' più informatiche diciamo vabbè gli informatici quasi mi dispiace per loro se gli ho molestato questo termine i chatbot chi sviluppa chatbot qui pensiamo ormai i servizi clienti quasi tutti hanno un chatbot addirittura sono anche delle cosiddette banche conversazionali probabilmente conoscete buddy bank di unicredit cioè quelle banche addirittura dove parli e basta tramite tramite la chat tramite un chatbot e poi appunto vabbè naturalmente le applicazioni più semplici sono i customer service però appunto stanno nascendo tutte quelle diciamo banche conversazionali appunto tutta la parte di data management anche questo è un po' più informatico quindi di gestione dei dati delle persone che comunque diventa sempre diventata sempre più importante con tutte le regolamentazioni il GDPR quindi la gestione dei dati personali che forse avete sentito poi c'è tutto il mondo regtech cosa sono le regtech sono quelle regtech è l'unione di regulatory tech sono quelle tech che offrono soluzioni per il mondo regolamentare dei financial services il mondo dei financial services è iper mega regolamentato e ci sono appunto soluzioni che aiutano le banche nel essere diciamo compliant con queste regolamentazioni tipo l'antimony laundering l'antiriciclaggio eccetera poi c'è tutto il mondo blockchain che qui si apre un mondo ci passerei ore però vabbè sorvoliamo un po' e poi c'è tutto il mondo data analytics machine learning intelligence artificiale quindi tutto ciò che appunto ricade dentro queste categorie e quindi facendo un po' una sintesi di quello che ci sono netti fino adesso cioè quali sono le leve strategiche delle soluzioni fintech ma alla base di tutto abbiamo quindi un'offerta di una user experience e una user interface semplicissima intuitiva che diciamo a prova di stupido lasciatemi dire cioè sono veramente semplici cioè magari fare un bonifico non è che di semplice in una banca perché magari è in un menu nascosto eccetera cioè con le applicazioni fintech apri non puoi sbagliare ce l'hai lì chiunque riuscirebbe a farlo poi la velocità cioè fare operazioni e processi in modo immediato cioè pensiamo a inviare tipo un pagamento prima un mio amico mi offriva una pizza dove gli dovevo dare 20 euro cioè qualche anno fa per dargli 20 euro poi gli davo in carta magari non c'avevo dietro oppure devo fargli un bonifico ma fargli un bonifico va a dire che voleva darmi l'Iban doveva darmi l'Iban devo fare il login sulla mia banca la computer perché fa il bonifico dal telefono cioè parliamone il bonifico poi ti arrivava il giorno lavorativo dopo e poi pagavo anche una commissione di bonifico invece adesso un euro circa adesso cioè pensiamo a Satisfay pensiamo a Revolut eccetera tutte queste applicazioni devo inviare dei soldi il mio amico cioè mi basta il suo numero di telefono gli invio cioè come più veloce probabilmente di inviare un messaggio su Whatsapp e tra l'altro non spendo niente appunto l'altro punto è la convenienza cioè ormai i prodotti e i servizi FinTech molto spesso sono molto più convenienti appunto il money transfer è a costo zero anche aprire conti cioè su Revolut anni 26 il conto base è completamente gratuito oppure fare il cambio di euro dollaro su Revolut anni 26 non costa assolutamente nulla se non il tasso di mercato se vai a cambiarlo in banca c'è il tasso di mercato più lo spread che la banca ti applica e poi l'ultimo pilastro è quello della convergenza cioè il fatto di trovare in una singola applicazione più prodotti e servizi finanziari e non in una sola app cioè pensiamo ad esempio a Revolut su Revolut io posso appunto avere la mia banca ma posso anche comprare un'assicurazione cioè Revolut in partnership con delle assicurazioni appunto offre la possibilità di acquistare la polizza viaggio ritardo del volo aereo smarrimento del bagaglio e un sacco di altre appunto assicurazioni e non solo permette ad esempio anche di investire in azioni in criptovalute e tutto questo appunto in partnership con altri player aggregando tutti in una sola app quindi non è che devo avere 10.000 app cioè un'app per investire magari in azioni in modo molto semplice un'app per inviare soldi un'app per la mia banca un'app per comprare prodotti assicurativi cioè è tutto in uno qualche esempio che vabbè in realtà li ho già citati tutti Satispay che appunto fa money transfer Revolut N26 che sono new banks Money Farm appunto che fa una wealth tech che quindi permette di investire poi c'è prima.it che è una insurtech italiana molto famosa e poi Stripe ad esempio Stripe probabilmente non avete mai sentito parlare ma Stripe è uno dei payment processor più importanti del mondo cioè considerate che ad esempio Uber utilizza Stripe e questa vale tra l'altro miliardi di dollari come vedremo e questa è più una techfin quindi sono quelle tanto se ci pensate le techfin sono anche quelle che essendo B2B generalmente magari conosciamo di meno di fama noi utenti finali però in realtà è ciò che sta alla base poi del mondo fintech e se andiamo a vedere a livello mondiale come sono distribuite le fintech qua si parla di unicorni non so se sapete cosa sono gli unicorni gli unicorni sono quelle compagnie che hanno una valutazione di mercato superiore al miliardo di dollari e se andiamo a vedere questi valori in realtà sono aggiornati a settembre 2020 con la ricerca appunto che abbiamo fatto come UY e gli unicorni ce ne sono 43 in America con una valutazione di 157 billion quindi miliardi di dollari Ci d'America solo 3 con 12 billion di valutazione in Oceania 2 con 2.4 billion in Asia 15 una valutazione pazzesca ma in realtà qua dentro era considerato ant financial che da sola valeva 150 billion e in Europa ne abbiamo 14 con 32.65 billion se andiamo a vedere lo spaccato in Europa prima cosa salta all'occhio che in Italia non c'è neanche uno quindi come vedremo dopo il mercato italiano è sì in crescita ma rispetto ai peers europei è piccolo è ancora molto piccolo sono principalmente localizzate in UK che tra l'altro ad esempio anche a livello di open banking è sempre stata DPS2 è sempre stata il pioniere in questo diamo ad esempio Revolut e altre che magari conoscete un po' di meno in Germania c'è N26 Wefox Celonis eccetera a Malta c'è Binance che è un exchange di cripto e ai paesi basti c'è Bitfury e come vi dicevo il fintech tutti ne parlano ma anche tutti ci investono infatti qui sono riportati gli investimenti che fanno i fondi di venture capital in Europa per settore nel bienio nel 2017 2019 e il fintech è il settore che ha attratto più fondi di tutti da parte di venture capital in Europa cioè il 20% di fondi investiti in Europa dai VC sono stati messi nel fintech e ha superato settori come health transportation food eccetera però se andiamo a vedere il grafico di destra è un grafico un po' triste per noi italiani perché dice che qual è la suddivisione geografica di questi investimenti che fanno i fondi di VC in Europa il 50% di questi fondi vanno in UK e quindi un euro su due finisce in fintech inglesi il 19% in Germania e se andiamo a vedere l'Italia è solamente il 2% quindi in realtà purtroppo il fintech europeo è diciamo UK centrico poi con la Brexit probabilmente ci saranno un po' di cambiamenti nel bene o nel male quindi potrebbe anche un po' ribaltarsi la situazione se andiamo a vedere in Italia questo sono le fintech italiane qui come guai appunto nella ricerca abbiamo mappato in Italia nel 2020 345 fintech nate dal 2010 fino al 2020 e di queste 345 abbiamo fatto appunto la suddivisione nelle categorie che abbiamo visto prima in Italia la categoria più rappresentata è quella del crowdfunding che appunto se vogliamo anche quella in alcuni casi un pochino meno fintech seguita poi da data analytics smart payments lending insurtech eccetera quindi è un ecosistema quello italiano come vedremo comunque in crescita adesso vediamo un po' di dati sul mondo italiano ma comunque eterogeneo non è che c'è sì c'è crowdfunding che è particolarmente rappresentato però non è così così sbilanciato e se andiamo a vedere come sono dove sono le fintech in Italia di queste 345 169 sono in Lombardia di cui direi probabilmente 168 sono a Milano una boh magari a Nuvara non lo so però 169 sono in Lombardia e quelle 51 che vedete sulla sinistra con la mappetta del mondo è perché in realtà come fintech italiana abbiamo considerato anche le fintech non nate esclusivamente in Italia magari sono nate ad esempio in Inghilterra o in Germania però che hanno una forte operatività in Italia e che hanno un headquarter in Italia cioè Revolut ad esempio come abbiamo visto prima è nato in UK però opera in modo anche importante in Italia tant'è che hanno headquarter del sud Europa a Milano e quindi l'abbiamo considerata come fintech italiana però con l'headquarter cioè con appunto headquarter non in Italia e fa parte di queste 51 però stiamo a vedere le fintech sono praticamente tutte concentrate in Lombardia e segue poi il LAX con 29 ma la Lombardia guida con 169 perché sono tutte in Lombardia e tutta Milano ma i fattori sono principalmente perché sono di diverso tipo innanzitutto i principali player finanziari in Italia sono localizzati a Milano cioè pensiamo alle grandi banche le assicurazioni eccetera sono localizzate a Milano pensiamo poi al livello di finanziatori cioè i grandi fondi di venture capital di business angel eccetera sono anche questi principalmente localizzati a Milano e quindi c'è sia lato potenziali clienti sia lato investitori ma anche a livello di talenti diciamo che l'università a Milano c'è una grande concentrazione di talenti e anche di figure professionali come vedremo dopo quali sono richieste dal mercato che ben si sposano con tutto il mondo fintech e quindi diciamo che Milano è un ultimo fattore che mi stavo dimenticando è il collegamento con l'Europa Milano però sappiamo tutti che è la città più diciamo europea d'Italia è anche quella meglio collegata con l'ecosistema di innovazione europeo quindi diciamo è per questo che Milano è sicuramente il terreno più fertile per le finte quindi poi un consiglio che vi posso dare come vedremo dopo cioè se volete iniziare a lavorare nel mondo delle fintech probabilmente se non siete di Milano valutate il trasferimento a Milano perché diciamo che sono tutte qui anche l'ultimo elemento se parliamo di acceleratori di incubatori eccetera del fintech anche di community del mondo fintech sono tutti a Milano cioè pensiamo al fintech district di Banca Sella è a Milano Italia fintech asso fintech e tutto cioè oppure anche incubatori eccetera sono tutti localizzati a Milano anche esso cdp quindi in cassa depositi e prestiti che ha lanciato un acceleratore con il fintech district è localizzato a Milano quindi è tutto appunto un insieme di fattori a livello di soldi di finanziamenti alle fintech è in crescita sia a livello europeo che a livello italiano però appunto abbiamo un'unità di misura un po' diversa cioè sulla sinistra vediamo quelli a livello europeo che sono in crescita abbiamo fino al 2019 perché il 2020 naturalmente con il covid ha subito una battuta dal resto però in realtà non è peggiorata così tanto come si pensa dai dati che abbiamo visto e cresce con un cadre quindi una crescita annuale del più 67% in Italia anche qui cresce quasi come livello europeo un più 62% però si raccolga con 261 milioni contro i 6 miliardi e mezzo del livello europeo quindi come abbiamo visto prima il 2% e quindi l'ecosistema italiano è piccolo cioè per concludere l'ecosistema italiano è piccolo non con tanti soldi ma sicuramente in crescita e diciamo anche gli segnali che vediamo anche durante il mio lavoro ogni giorno anche con le banche con gli incumbents cosiddetti è sicuramente una cosa che interessa particolarmente quindi c'è grande fermento nell'ecosistema vediamo anche che nascono anche player ad esempio i DEX cioè player anche un po' più istituzionali che però si sono lanciati da zero in questo settore che comunque poi sono destinati un po' diciamo a scrivere la storia di questo settore quindi nel bene o nel male è un ambito piccolo che però sta crescendo particolarmente velocemente e sta attirando sempre più interesse poi se andremo sicuramente nella direzione di seguire i trend europei sicuramente crescerà particolarmente per concludere quest'ultima sezione poi passiamo ai dati sul lavoro la cosa importante per le fintech è ragionare in un'ottica di competizione non competizione cioè è anche per le banche quindi le banche cioè le fintech per le banche non sono solo dei competitors e non devono essere visti esclusivamente come dei competitors ma devono essere visti come un'opportunità di come un alleato con cui poter fare un collaboration model che può essere appunto questi quattro che sono elencati sotto cioè un partner con cui appunto fare partnership collaborare per innovarsi e quindi non è solo non sono solo competitors ma bisogna ragionare in un'ottica di coopetizione di coopetition e competition insieme quattro modelli sono accelerazione partnership o invest e buy cioè invest e buy nel senso che le banche o i player finanziari poi si comprano direttamente le fintech e quindi si portano diciamo a casa all'interno tutte le competenze delle fintech passiamo poi all'ultima sezione e anche qui c'è una citazione di Mario Rossi che dice lavorare in una fintech non è stressante e Mario Rossi ha solo 26 anni ma questa è la e così naturalmente non è seria però per introdurre l'ultima parte e ci dice a livello di team di persone che lavorano nel mondo fintech se andiamo a vedere le top 20 fintech italiane per fondi raccolti che hanno risposto alla survey che abbiamo fatto nel report di Guaie le fintech che vi è successo in Italia hanno in media 1.8 founder quindi 1.8 fondatori con un'età media di 46 anni quindi comunque questo dimostra che chi fonda una fintech mediamente se si inizia a lavorare intorno ai 24 25 anni arrotondiamo ai 26 vuol dire che ha più o meno 20 anni di esperienza nel mondo del lavoro ma quello che abbiamo visto è che molto spesso i founder il 90% dei casi praticamente viene dal mondo finanziario quindi in realtà lanciare una fintech non è così semplicissimo per un giovane che non ha esperienza nel mondo finanziario ma perché? perché come dicevo prima è un mondo fortemente regolamentato quindi anche conoscere bene le regolamentazioni del mondo finanziario poi è un fattore critico di successo per lanciare una fintech di successo quindi perché appunto c'è una presenza molto forte di regolamentazioni c'è la PSD2 anche tutto il mondo MIFID in ambito assicurativo l'ADD c'è Basilea cioè sono dei concetti che sono fondamentali per operare tant'è che le fintech in molti casi devono essere regolamentate comunque da Banca d'Italia o da Consub per operare e quindi appunto non è una roba giovanissima per i fondatori in realtà poi se andiamo a vedere l'età media del team che è il grazie qui in alto a destra l'età media del team in realtà è bassa perché il 56% ha meno di 32 anni cioè il 6% ha meno di 27 però diciamo che anche magari questo dimostra appunto che come primo lavoro magari uno non sceglie di andare nelle fintech ma poi nella fascia 27-32 quindi magari come secondo cioè come secondo step di carriera tanti vogliono andare nelle fintech infatti il 50% dei team che lavorano nelle fintech hanno tra i 27 e i 32 anni la presenza di donne nel mondo fintech in realtà ricalca un po' quello che c'è nel mondo finanziario cioè è bassa molto bassa anche negli anni i founder avevamo visto in realtà che la presenza di donne era bassissima uno o due founder su tutti quelli che avevamo analizzato erano donne mancano le ultime due slide e qua questo fa vedere il background accademico di chi lavora nel mondo fintech qui diviso per fintech e techfin quindi con fintech intendiamo quale più il fintech che abbiamo visto prima e le techfin e questo cosa dimostra in realtà se vogliamo era anche un po' scontata nel senso che nelle fintech chi ci lavora sono principalmente gente che viene dal mondo di economia e management e poi in secondo luogo da informatica o computer science o ingegneria informatica eccetera poi c'è ingegneria poi matematica statistica eccetera nel mondo invece techfin la cosa si ribalta un po' cioè c'è il primo posto informatica discipline legate all'informatica e poi economia e management ingegneria matematica e fisica statistica eccetera questo perché appunto i techfin naturalmente hanno una componente tecnologica molto più spinta in realtà rispetto alle fintech vere e proprie come abbiamo visto prima e questo vi può essere molto interessante perché qui avevamo chiesto alle aziende quali tipi di profili vogliono assumere nei prossimi 12-24 metri quindi nel prossimo anno barra due anni e poi sulla destra se se sono accorti che sul mercato qualcuno di questi tipi di profili è ritenuto scarso cioè c'è scarsità di questo tipo di risorse sul mercato abbiamo visto appunto che principalmente vogliono assumere sviluppatori app e software quindi se qualcuno di voi è un sviluppatore o sa sviluppare app o software e vuole entrare nel mondo fintech è fortunato perché probabilmente ci riesce abbastanza semplicemente anche perché poi stiamo a vedere se sono considerati scarsi sul mercato sì è la seconda categoria più percepita come scarsa sul mercato tutto il mondo di business development quindi chi appunto poi sviluppa il business per semplificare un po' i commerciali quindi che vanno magari a proporre la soluzione e comunque partano avanti tutte le attività di business development e poi tutto il mondo naturalmente di data scientists esperti in intelligenza artificiale in quello legato un po' più anche qui alla tecnologia e poi i designer user experience eccetera e se ne va a vedere poi sulla destra i profili come user experience designer quindi legato al mondo del design eccetera per le fintech cioè non ne cercano tantissime ma sono anche molto difficili da trovare quindi anche se siete in questo settore e vi interessa lavorare nel mondo fintech probabilmente vi risulta molto più semplice io avrei finito qui ci sono i miei contatti sia la mia mail che il mio linkedin ma su linkedin se cercate Federico Tiella mi trovate quindi poi adesso naturalmente c'è spazio per le domande ma se poi vedo che il numerino sta salendo però se poi qualcuno magari non gli viene in mente questa domanda o qualche curiosità vuole farmi anche dopo io sono super disponibile a rispondere anche dopo per email o su linkedin sono presente su tutti i social network tranne i tiktok quindi se volete però contattarmi in qualsiasi modo scrivetemi super volentieri eccoci allora visto che sono arrivati un bel po' di domande prima di rispondere intanto ti ringrazio per tutta diciamo questa presentazione esaustiva che hai fatto ho apprezzato molto le citazioni se posso lanciare a tuo favore diciamo su queste su come l'hai impostata molto interessante ecco carino divertente diciamo allora passo subito diciamo alla parte divertente che sono le domande ho visto come sono arrivate abbastanza allora parto con questa di Calogero per esempio che chiede è requisito o comunque un grande valore aggiunto conoscere un linguaggio di programmazione come python per essere scelto per lavorare nel mondo fintech direi di sì perché appunto come abbiamo visto dal adesso se cambio slide i ragazzi la vedono come avevamo visto in questo slide qua sicuramente chi viene dal mondo diciamo informatico tecnologico quindi chi conosce un linguaggio di programmazione è sicuramente avvantaggiato quindi è molto più più facile poi essere scelti e anche poi un programma come python che comunque sia un linguaggio di programmazione ma anche molto utile per l'analisi dei dati sicuramente è un valore aggiunto anche perché poi quindi sia sviluppatori app e software che data scientist e AI expert cioè sono tra i profili più più richiesti al mercato anche più difficile da trovare quindi sicuramente conoscere il linguaggio di programmazione come python come qualsiasi altro linguaggio è uno dei forse anche fondamentali diciamo un po' per lavorare in questo mondo ok poi allora lorenzo chiede questa è una domanda che arriva abbastanza spesso se hai dei consigli su diciamo due o tre libri che consiglieresti sull'innovazione su diciamo sui temi che abbiamo affrontato cioè che hai affrontato nel nel corso della tua presentazione sì beh sicuramente ti consiglio blitzscaling che l'abbiamo parlato prima di Ray Doffman un libro che a me è piaciuto tanto è quello di Peter Thiel è scritto un po' come il mio cognome togli le T-H-I-E-L quindi anche per quello che mi è piaciuto che è From Zero to One o Da Zero a Uno anche lui è Peter Thiel uno dei fondatori di Paypal anche lì racconta un po' come funziona il mondo del diciamo della Silicon Valley che poi è realtà un mondo particolare però è un libro che a me è piaciuto particolarmente poi parla di un po' di concetti dell'imprenditore seriale cioè perché ad esempio tutti quelli che ha lanciato Paypal poi hanno avuto grande successo anche nel resto e diciamo ti spiego un po' se non voglio fare spoiler se no ti rovino il libro appena me lo leggi più però ecco è un gran bel libro anche quello quindi questi due poi se mi vengono in mente altri se vuoi scrivermi su LinkedIn poi ti dico comunque ce ne sono tantissime perfetto poi allora aspetta che qua sono aumentate e ho perso un po' il filo allora questa di Daniele per esempio ricollegandoci al discorso Brexit che hai citato poco fa a causa Brexit pensi che alcune fintech possono decidere di spostarsi dall'UK ma sicuramente poi bisogna capire un pochino cioè gli impatti appunto anche su questo mondo ma sicuramente molte cioè già tante di queste hanno aperto headquartering in Europa anche la stessa Milano sta diventando così come Berlino una delle città che attrae più più fintech ma che è evoluto appunto aperto la parte sud Europa in Italia quindi sicuramente un po' di fintech magari non si sposteranno completamente però opereranno magari in maniera un po' più sostanziale un po' più massiccia in Italia o in Germania comunque ci sono un po' i paesi che guidano il mondo fintech in Europa al di fuori UK tra l'altro so che diciamo io ho un conto Revolut e so che hanno fatto di tutto per tutelare poi tutti gli utenti diciamo che sono iscritti a Revolut che fanno parte della community tra virgolette proprio per tutelarli da qualsiasi problema eventuale che potessero affrontare in caso di Brexit appunto e poi così è stato quindi infatti penso aver risposto anche a un'altra domanda che c'è sotto che mi chiede tra Revolut e N26 quale consiglio ah sì nel senso non è che N26 per carità mi piace tantissimo però io parere completamente personale mi piace particolarmente Revolut ma in realtà le funzioni sono praticamente le stesse è più un po' a gusto personale un po' anche quel network effetto che dicevo prima cioè se tutti i tuoi amici hanno Revolut la tua compagnia ha Revolut è più facile che poi utilizzi molto più spesso Revolut io utilizzo più Revolut che N26 ma perché a parte appunto tutti i miei amici ce l'hanno però non è che c'è un motivo particolare non mi pagano esatto magari non sono un Revolut influencer purtroppo esatto io uguale anzi se mi avessero bagato forse forse a quest'ora sarei stato più ricco magari esatto allora poi Riccardo chiede allora io ho trattato il Robo Advisory nella tesi in Italia ancora molto indietro come utilizzo quanto ben si influisca la mentalità italiana sulla poca diffusione del fintech e cosa pensi che serva a dare la spinta definitiva magari questa crisi avrà qualche risvolto come con lo smart working beh bella domanda allora Robo Advisory secondo me sì c'è la mentalità italiana speciale la domanda è un pochino più in una quindi allora Riccardo la prima su Robo Advisory la mentalità diciamo secondo me si influisce ma più che altro un po' con i servizi legati al mondo wealth quindi di investimento molto spesso c'è anche nelle banche magari un po' meno noi giovani siamo più abituati anzi a volte non ci piace neanche avere una controparte fisica cioè avere una persona magari con cui parlare a volte preferiamo dire lasciami in pace che faccio da solo no però specialmente magari chi è un pochino più in la qualità su questi argomenti gli piace avere una persona con cui parlarne con cui discutere con cui avere opinioni e anche magari si crea un po' più quel meccanismo di trust di fiducia personale che magari Robo Advisory non ti dà e poi anche molto spesso si sente parlare di Black Box quindi scatola chiusa no cioè molto spesso magari non sai bene Robo Advisory come funziona vabbè tu l'hai trattato in desi quindi lo saprai benissimo però sì sicuramente secondo me soprattutto magari appunto meno noi giovani ma un pochino un pochino più in là con l'età c'è sicuramente questo freno che dici ma alla fine i soldi chi è che me li investe cioè un robot io personalmente anche lì uso dei programmi di Robo Advisory oppure un po' un mix come può essere ad esempio un Money Farm anche loro non mi pagano non sono un plesso di Money Farm però a me piacciono anche perché appunto non avere cioè Money Farm è un po' un modello ibrido perché comunque dall'altra parte hai una persona con cui puoi sempre fare riferimento però è un modello un po' ibrido poi poche diffusioni del fintech è vero tra l'altro ci sono degli indici di diffusione del fintech in Italia non è molto alto tra l'altro c'era un dato che diceva che il servizio fintech più utilizzato in Italia che poi era considerato come fintech ma per me non è particolarmente fintech tra tutti sono i comparatori online delle assicurazioni tipo un facile punto it eccetera questo è un po' per far capire cioè il livello che abbiamo cosa cioè cosa può dare la spinta definitiva sicuramente vabbè il covid smart working eccetera sì perché ha un po' portato sempre più una mentalità un po' più digitale ma poi anche ha spinto sicuramente i pagamenti digitali quello sì e poi anche iniziative di stato tipo il cashback di stato perché sicuramente cioè ad esempio appena uscito il cashback tutti i miei parenti e amici un po' più anziani mi hanno chiesto mi installi l'app che voglio fare il cashback e quindi poi hanno iniziato anche loro a pagare quella carta di credito eccetera poi da utilizzare la carta di credito a caricarsi Revolut a pagare con Revolut anche se poi puoi avere la carta fisica con Revolut con N26 con AIP eccetera per non fare pubblicità però cioè da lì appunto avere questo tipo di banca ancora ancora però sicuramente questo ha dato una bella spinta ok mi sembra che hai risposto a tutte e tre le domande diciamo se l'ho fatta esatto allora vediamo se ce n'è qualche altra particolarmente interessante allora questa diciamo abbastanza generale di Vito che chiede di cosa ti occupi sostanzialmente in EY eh non so che l'ho anche io no nel senso che vabbè il ruolo è un po' strano perché appunto è stato creato questo team innovation in fintech siamo in pochi cioè in questo momento nel team siamo in cinque e che diciamo ci occupiamo più di queste tematiche io in particolare sono più molto più focalizzato sul mondo fintech e ehm mi occupo sia di aiutare un po' io parlo di banca perché viene più semplice però in realtà anche assicurazioni appunto e società di wire facet manager proprio con banche intendo un po' tutto il mondo finanziario quindi aiutiamo le banche a ehm diciamo molto spesso a trovare la soluzione fintech con cui collaborare per rispondere in modo molto rapido alle esigenze che hanno cioè ad esempio durante il covid molte imprese hanno bisogno di eh anche col decreto liquidità che hanno fatto eh di chiedere dei prestiti in modo molto rapido alle banche le banche appunto il prestito è una cosa che è loro proprio core business però molto spesso le banche magari un po' più piccole rispetto all'intesa San Paolo unicredit quindi con le dimensioni diciamo medio piccole eh hanno avuto un sovraccarico di richieste che non riuscivano a gestire allora sono affidate a soluzioni fintech di lending come dicevamo prima magari non super tecnologiche che prendono i dati dei ristoranti che facevo l'esempio prima che è un po' astratto che poi in pratica ci sono anche tutte le regolamentazioni non è così semplice però sono appunto affidate a queste soluzioni fintech per rispondere velocemente a questo problema cioè per aiutare in erogazione e quindi mi aiuto sia di appunto aiutare mi occupo di sia di aiutare le imprese finanziarie a trovare le fintech migliori con cui collaborare e sia poi in realtà lato opposto a trovare diciamo ad aiutare le fintech nel loro percorso di crescita quindi ad aiutare le fintech che magari hanno bisogno di servizi classici del mondo della consulenza quelli che facciamo noi nel crescere nel portare il proprio business magari a livello internazionale come i guai che siamo appunto una multinazionale magari aiutiamo anche andare in altri paesi a dialogare con i clienti e poi appunto è una cosa molto importante che le aiutiamo a dialogare con le banche eccetera cioè facciamo un po' da intermediari tra gli incumbent quindi le banche i player più diciamo tradizionali con questi player un po' disratti e poi un po' di ricerca sul mondo fintech che comunque devono sempre tenersi aggiornati questo fondamentale principalmente questo poi diciamo anche l'attività è un lavoro molto dinamico perché poi anche i temi sono di per sé diciamo dinamici innovativi quindi un po' ok dai mi sembra che hai dato una risposta abbastanza chiara piuttosto concreta dai allora magari rispondiamo ancora un paio di domande poi andiamo a cena c'è il derby esatto allora vediamo se ne trovo una particolare ah questa veloce miglior pfm ma in realtà non so io utilizzo quello di intesa ok però cioè sul mercato ce ne sono anche di molti altri in realtà non sono un grandissimo esperto di pfm quindi su questa poi magari passi passi ti rispondi in privato allora vediamo l'ultima domanda ah questa per esempio è molto interessante può diciamo può essere utile un po' a tutti quali sono i canali che usi per rimanere aggiornato su questi temi se ci sono dei siti dei blog dei profili instagram c'è delle pagine instagram praticamente interessanti non lo so raccontaci un po' beh allora in realtà beh io utilizzo tanto linkedin quindi poi diciamo che seguendo un po' le persone un po' chiave sia del cosistema fintech italiano che di quello un po' europeo appena esce una notizia comunque viene rimbalzato ovunque quindi se esce qualcosa di importante la si trova ovunque quindi direi su linkedin di seguire un po' di persone importanti di questo ambito poi se vuoi nei contatti ti do qualche nome in particolare poi ti direi a livello di siti in Italia ad esempio c'è Fintastico che è un giornale diciamo online che tratta di temi fintech ti direi poi ad esempio se vuoi leggerti un bel report di 145 pagine sul mondo fintech col focus sull'ecosistema italiano puoi leggerti il report che abbiamo fatto in UY che si chiama UY Fintech Waves dell'Italian Fintech Ecosystem 2020 poi se non la parte che lo trovi anche sul sito di UY.com se non lo trovi scrivimi pure che te lo mando tanto è pubblico e è gratis siti quelli un po' più americani ad esempio c'è a me piace Caranchi Base sono iscritto alla newsletter che in realtà non è solo sul fintech è un po' sul mondo in generale per esempio quando esce una notizia di un IPO di qualche cosa importante te la mandano e poi ti direi ma io seguo a livello Instagram che mi dicevi tu sì esempio c'è una pagina che è nata da poco mi pare si chiama il fintech proprio e lì mettono sì qualche notizia carina ok ma principalmente uso LinkedIn in realtà ok ok allora diciamo invitiamo Marco diciamo a scriverti per seguirmi sono un guru ma vabbè però se ti iscrivi magari sai qualche nome di qualche esperto da seguire magari sui vari canali sì cerca di più anche il fintech district che mette notizie ah c'è BBiz quello è carino anche quello come BBiz scritto come app in inglese Bancaforte anche se mi stanno venendo un po' un po' di Bancaforte appunto un giornale di Banca d'Italia o di Abiness non voglio fare gaffe che mette notizie su questi ambiti ok dai io credo di aver risposto cioè di aver beccato più o meno tutte le domande che sono arrivate non ne credo che non me ne sia sfuggita nessuna no allora ce n'era una ma un esempio di prodotto finanziario di un'azienda tecnologica che era la primissima domanda che è arrivata forse l'hai sì ho un po' risposta c'è uno che mi chiede Francesca qual è il prodotto fintech che preferisco ma a me piacciono le neobanks forse sei inteso tipo le già citate neobanks perché come sono cioè la cosa bella appunto è che in una sola app puoi fare un sacco di cose cioè da inviare i soldi ai tuoi amici in un secondo gratis a dire che ne so vedo che i bitcoin stanno salendo dico ma perché non ci butto 10 euro sui bitcoin non è che devo iscrivermi a coinbase eccetera per farlo cioè non devo far niente due tappe questo bitcoin oppure voglio investire in tesla eccetera in 10 secondi massimo posso comprare tutte le azioni che voglio di tesla apri l'app poi a me piace un sacco tutto il mondo di insurtech perché tipo anche tutte le applicazioni legate al mondo IoT delle assicurazioni adesso l'ultima cosa poi chiudiamo che è fighissima le assicurazioni comportamentali tipo cioè pensa ai dispositivi IoT per la macchina tipo le black box quelli che vedono lo stile cioè i dati e la guida molto spesso ultimamente nascono prodotti assicurativi che analizzano un po' il tuo comportamento alla guida e quindi se tu sei un bravo guidatore magari ti fanno degli sconti se sei un cattivo guidatore in realtà per legge penso non possono peggiorarti il premio assicurativo però se sei bravo se sei un ottimo pilota e sicuramente ti possono fare degli sconti magari monetari oppure ti danno un buono Amazon eccetera quindi tutto questo è legato appunto al mondo insurtech oppure i rilevatori di fumo in casa che in Cina lo fanno appena c'è il fumo ti parte un drone da un tetto che arriva lì ti fa le foto ti fa l'analisi immediata del danno se è sotto una certa soglia ti fai automaticamente il rimborso sul tuo conto bancario eccetera questo è un po' questo è un po' questo è un po' non da uso però è molto va bene allora credo che questa volta ci siamo per davvero nel senso abbiamo risposto un po' a tutte le domande che sono arrivate noi di solito concludiamo tutti questi webinar con un ultimissimo consiglio che chiediamo appunto ai redatori da dare insomma a tutte le persone che ci hanno seguito sulla carriera o comunque sul lavoro nel tuo caso direi per lavorare nel settore del fintech o comunque dell'innovazione che consigli ti sentiresti di dare a un ragazzo che comunque o sta finendo gli studi o ha terminati e sta per diciamo entrare nel mondo del lavoro ma sicuramente che è un po' quello che mi piace fare a me è essere curiosi cioè nel senso leggete tanto anche perché spesso questi temi a livello universitario magari non a parte se magari c'è qualche corso specifico che non so in ambito se un appassionato di start up o di innovazione sì ci sono però magari tipo di big scaling l'avevo mai sentito a livello universitario no? magari qualcuno di voi sì però sono temi un po' più un po' più particolari e quindi cioè informate siete curiosi leggete tanto tanti libri ormai c'è su internet a parte che anche senza comprare libri cioè è pieno di articoli che si trovano che parlano di tutto quindi informatevi tanto se siete curiosi se c'è qualcosa che vi appassiona cioè se vi piace il fintech studiatevi benissimo il fintech eccetera magari uno non è uno sviluppatore soft però se fa un colloquio con una fintech e sa tantissimo di fintech cioè se vuoi lavorare lì sicuramente poi ti prenderanno perché la passione è comunque fondamentale quando si fanno le cose quindi siate curiosi leggete tanto e appassionatevi dai bene bene un ottimo consiglio direi allora io direi che possiamo concludere questa diciamo questo webinar ringrazio tutte le persone che ovviamente hanno partecipato e ci hanno ascoltato fino ad adesso e ringrazio ovviamente te Federico diciamo per la tua disponibilità e per il tempo che ci hai dedicato e diciamo tutta questa presentazione che ci hai fatto su un po' sull'innovazione il fintech è super super interessante e niente do appuntamento ovviamente a tutte le persone che lo vorranno per i prossimi webinar sempre sempre su Twitter grazie mille e se volete scrivere a Federico e niente buona serata a tutti ciao grazie